Pollo, pollo, pollo bollito, mi sembra di essere un porco all'ingrasso Non inquadrare le tette Benvenuti sul nuovo day of my life, adesso andiamo a svegliare Mary Buongiorno No, no Wake up, wake up È ora di mangiare tanto pollo Ecco il look se va a pigiama Prima cosa che mangio la mattina è Pollo Ecco qui ragazzi il pollo Cucina ad alto livello ragazzi, Master Chef Mettiamo tutto nel microonde E adesso facciamo il caffè rigorosamente solubile da buon italiano Il latte di mandorle Mettiamo un po' di avena Che bontà ragazzi Granola col caffè E pollo bollito ragazzi Ragazzi che buono il dragon fruits Nomade digitale e influencer Diva e donna Bene ragazzi Bene ragazzi stiamo per andare in palestra Mary versione palestra E' arrivato il trainer Se volete seguire andate qua vi lascio il suo instagram Se siete a Bangkok e volete allenarvi Prendete lui E' arrivato in palestra Bene Guardate Mary che sta diventando Lara Croft Tra l'altro anche lei è stata in Cambogia Guardate la foto Bene Abbrick E E E E E E Ok, preso, ando a un po' un po' Piscina! Mi piace, mi piace Guardate Mary quanto è brava a nuotare No dai, faccio vedere, faccio il delfino Il line, secondo me viene benissimo, vai La farfalla, la faccio vedere Che bravo E più o meno tipo quella cosa si sa proprio a fare quelle di Non inquadrare le tette Cos'è? Sì, e la parte sopra dovrebbe essere Sì, guarda, tutti stanno guardando proprio la parte sopra Ragazzi, guardate Che look, che look Post palestra, indovinate cosa mangio? Pollo bollito Senza sale né olio e di una bontà Mi sembra di essere un porco all'ingrasso Uh, hanno messo un albero di Natale a casa mia Comunque ho deciso che faccio un'esperienza nuova Quindi salirò su una moto Chissà com'è, io non l'ho mai presa Costa veramente poco Perché con 300 yen riesco ad andare a fare il meeting con la nuova agenzia Perfetto, dovrebbe arrivare in otto minuti Vabbè, l'aspetto nel lobby Appena arriva saliamo nella moto insieme Oh mio dio Ok, ragazzi Prendiamo una moto per la prima volta Yuppidu Bene dai, siamo sopravvissuti, quindi tutto bene Adesso si va al meeting E' fortuna che avevo il cappello Se no adesso sarei tipo Bridget Jones Ve la ricordate? Fotina Come vi ho promesso, vi presento la nuova manager Ciao italiani amici Bene ragazzi, il meeting è andato benissimo E sono... Oddio, sono ancora un po' eccitato Non vedo l'ora di dirvi le novità che ci saranno Un sacco di belle cose stanno succedendo qui in Thailandia E anche con la Cina Quindi non vedo l'ora di condividerle con voi Adesso vi porto a fare la spesa E vediamo che cosa compro Eccoci, arrivate al supermercato Mmm, cosa potrei prendere? Sicuramente dei dragon fruits E adesso mi faccio un'insalata qui Si può scegliere tutto quello che si vuole Mamma mia Ecco qui che me la incartano per bene Thank you Eccola qui la mia insalata E adesso prendiamo un po' di pollo Probabilmente vi sorprenderà quanto ne prendo Però ne prendo tipo due chili E lo finisco in due giorni E che mondo sarebbe senza Nutella? Vabbè, mi prendo questi crackers Ed ecco qui la spesa mai una gioia di oggi Ed ecco qui il mio pranzo Brown rice con pollo Ancora pollo Buon appetito a tutti ragazzi Itadakimasu Anche la nostra Mary sta mangiando super fitness Continua la giornata di oggi Siamo adesso in metropolitana Questi sono i biglietti della metro Usiamoli C'è un orsetto impiccato Che bello Si respira proprio la magia del Natale 39 gradi C'è un culo dietro ma vabbè C'è sempre una prima volta C'è sempre una prima volta Si che flower è entrata in testa Trailer Caldo e macello E' l'ora della merenda con un po' di pollo Per cambiare Pollo però con una gioia 20 millilitri di green curry Mamma mia ragazzi Che emozioni su questo canale Intanto Mary sta lavorando Io invece dicevo che per quest'anno non lavoro più Beh devo imparare lo script però del nuovo telefilm Io sto imparando lo script del nuovo telefilm cinese C'è un po' di 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 po Ragazzi guardate che bella foto che ci siamo fatti Io sono quella a sinistra e Mary è quella a destra Il momento della cena Abbiamo pollo per cena questa sera Tra l'altro pollo con lusso perché questo è pollo con anche un po' d'olio Guarda proprio la cena mi posso percedere questo lusso Quindi non vedo l'ora di mangiarlo Mamma mia quanto mi invidiate ragazzi Vedete tenersi in forma non è per nulla sconveniente Potete mangiare tanto Dove andiamo Mary? Mercato notturno Quindi poi andiamo anche nel mercato notturno C'è tipo 3 euro in mano e non volevo dirvelo A mezzanotte signori e signori Per tutti coloro che vogliono dimagrire e stanno attenti alla linea Vabbè ragazzi la giornata pollo spero vi sia piaciuta Adesso birra Un campai a tutti e ci vediamo al prossimo video Occi? Occi 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 Grazie a tutti.